Con un decreto del dirigente della Regione Campania, del 10 novembre 2005, fu assegnato al Comune di Agropoli un finanziamento di euro 2 milioni per la realizzazione di barriere sommerse, pennelli, foci armate e interventi di ripascimento. Successivamente, attraverso un contratto, fu concesso alla Consediglio Costruzioni SRL, con sede in Formia, l'appalto dei lavori in questione. Ma i lavori furono per lungo tempo sospesi, per il mancato riperimento da parte dell'appaltatore e delle sabbie occorrenti, per il ripascimento della renile del lungomare San Marco. Successivamente, l'assessore alle politiche di sviluppo sostenibile comunicava alla Regione Campania la volontà dell'amministrazione comunale di procedere con fondi propri alla ricerca delle sabbie nello specchio acqua e antistante litorale San Marco e dalle analisi preliminari di esse, per verificarne la compatibilità con quelle della renile. Dalle attività di studio ed analisi delle sabbie è emersa la possibilità di utilizzare cumuli di materiale, depositatosi oltre la barriera soffolta. Con una deliberazione della Giunta Comunale fu richiesto alla Giunta Regionale della Campania, la modifica della fonte finanziaria e la missione al finanziamento a valere sul pertinente obiettivo operativo del POR Campania FESR 2007-2013, le cui risorse non erano soggette al vincolo del patto di stabilità e consentivano una più veloce liquidazione delle spese. Ma tale richiesta non ebbe esito positivo e quindi la fonte di finanziamento è rimasta quella originaria. Si propone dunque di approvare il progetto esecutivo degli interventi finalizzati alla protezione dei litorali di Agropoli, dai fenomeni di erosione costiera e dai rischi ad essa connessi, secondo l'otto secondo stralcio, depositato dal direttore dei lavori ingegner Francesco Sarnicola. In data 11 settembre 2015, per un importo di circa un milione di euro.